Cos'è un equilibrio? Un equilibrio è una cosa per stare in piedi Per stare in piedi, è già qualcosa Che cos'è un equilibrio? È una cosa per stare in piedi Che cos'è? Quando devi andare a fare qualcosa Per stare in equilibrio E non lo puoi fare Giusto, allora Ognuno ha una safora Allora, un equilibrio è questo Ci sono due squadre, due forze, no? Due eserciti Poi c'è Flavio Che vuole mettere pace Mo' dobbiamo vedere se la forza di Flavio È in grado di equilibrarvi Perché la squadra la vedo un po' squilibrata A parte Tommaso qua Però questi altri sono terribili Vabbè Mi raccomando, eh Quindi, allora Siccome l'equilibrio non si sa come va a finire Mettiamo in protezione qua Se no questi fanno una botta allucinante Oh, è già qualcosa Ehi, Alessandro Andrè Alessandro, Alessandro Mi raccomando là, eh Non sbattete Ok? Fate attenzione Per sicurezza Mettiamoci questo Allora Siete pronti a vedere se Flavio Riesce a equilibrarvi Sì Vai Allora Tre Senza farvi troppo male Però metteteci il Giorgia il Chi hai Chi hai Tre due lo via Stop Lai Lai Stop!